Allora, la mia è che queste ragazze, allora ho detto dove sono brave, però ho detto secondo me devono lavorare adesso ed esclusivamente si devono impegnare proprio sulla tecnica Questo senza ombra di dubbio Sì ma già che ci sono i passi di latino Ma no è il 5, è il 5 che diamo No ma è 0 No, è 5, è 5 Ragazzi però vi devo un attimo Allora sarà stato questo, la Farnese voleva creare questo momento, il suo 0 è 5 Perché il gruppo non può andare a casa sapendo che la tecnica è 0 Magari effettivamente la tecnica è 5 ma non è 0 Ok